La società 4.0 è una società in cui è in atto fondamentalmente una rivoluzione digitale, una rivoluzione digitale che coinvolge un po' tutti i settori della società, dall'economia alla politica fino al giornalismo, ed è evidente che il giornalismo in questo momento storico, con questa rivoluzione in atto, deve prestare particolare attenzione. Credo che non ci dobbiamo far sovrastare da questa rivoluzione digitale, dal 4.0, come diceva lei, perché innanzitutto dobbiamo sempre mettere al centro l'uomo. Questo vale per la politica, per la società, per l'economia e vale ovviamente anche per il giornalismo. Dico questo perché purtroppo a volte, soprattutto in rete in questo periodo, sui social girano tante fake news, tante notizie false, invece il giornalista, seguendo principi etici importanti e fondamentali, deve sempre governare la notizia, sapere qual è la notizia che tende obiettivamente alla verità e questo penso che sia un fatto fondamentale per l'etica del giornalista.